L'attività nello specifico ha permesso di ricostruire l'imposizione del caffè di una determinata marca di caffè a gestori di esercizi commerciali, nello specifico bar, presenti nell'agroversano e nella provincia di Caserta più in generale. Dall'attività di indagine è emerso che dopo aver contrastato in maniera efficace il fenomeno tipico delle richieste estorsive a gestori di esercizi commerciali nell'agroversano e sul Casal di Principe, il clan si è organizzato per attuare altri tipi di imposizioni per andare a rimpinguare le casse del clan e il flusso finanziario che arriva all'interno delle casse del clan. Si continua a registrare la collaborazione da parte di commercianti e imprenditori dell'agroversano e della provincia di Caserta che continuano a denunciare gli episodi di estorsione di cui sono vittima anche a causa dell'attuale difficile situazione economica. Grazie! Grazie!